ciao amici brucerchiati niente terza vittoria di fila questo samp sassuolo 2 a 3 e chiude il nostro 2020 lo chiude con una sconfitta io sono esausto al termine di una partita è stata una continua alta lena un frullatore stappata subito da questo gol che abbiamo gentilmente regalato e per carità può succedere l'errore di tonnelli un po più inquietante secondo me entriamo subito nell'analisi della partita la distanza che c'è in quel momento tra tonnelli e colle lì si infila caputo nasce il gol del 1 a 0 del sassuolo di traurè dopodiché la sandra gioca un primo tempo secondo me bellissimo creando un sacco di occasioni e spegnendo su nascere il palleggio proverbiale del sassuolo di de zerbi che appunto nel primo tempo soffre tanto il nostro pressing e la sancrea non realizza l'uno a uno sembra una partita davvero stregata che invece sembra girare nel secondo tempo col pari trovato finalmente da quagliarella lì secondo me l'errore più grave di questa partita e cioè la gestione dopo il pareggio l'aveva detto anche dopo la partita contro il crotone mister ranieri che a un partita dal punto di vista psicologico si mette meglio bisognerebbe aspettare un attimo riflettere prendere le distanze sistemarsi invece la sandoria e ci può stare perché visto anche il momento di ottimismo e la buona scia derivante dalle ultime due vittorie consecutive la sandoria prova a ribaltarla subito va addirittura in area cognanto l'azione muore anzi diventa il contropiede del 2 a 1 del sassuolo che poi di via poco segnerà anche il terzo entra che età quasi ce la fa recuperare realizzando il gol del 2 a 3 e creando un sacco di occasioni in quel quarto d'ora in cui rimane in campo poi viene espulso con un rosso molto discutibile che non coincide a livello di metro di giudizio con il giallo invece soltanto dato a kiriches per intervento in ritardo su gaston ramirez quindi la perdiamo con tanti rimpianti ma con la sicurezza di aver visto una squadra che comunque c'è è presente se la gioca a viso aperto in questo momento la classifica e una certa serenità glielo permette chiudiamo il 2020 al primo posto della parte destra della classifica con 17 punti pagelle iniziamo dalla difesa ed audero in generale è stata una difesa che avrà voti evidentemente bassi ma è stata anche poco protetta di fronte a giocatori avanzati che al sassuolo che sono di primissimo livello molto pericolosi e quando li affronti uno contro uno ci sta di incappare in brutte figure 5 e mezzo per emile audero che non ha colpe dirette sui gol subiti l'ho visto però ancora un pochino meno sicuro stessa impressione me l'aveva data contro il crotone tre giorni fa anche nelle uscite nella gestione non mi ha convinto del tutto anche se ripeto ha provato anche ed è riuscito anche in parate non semplici però purtroppo non sono bastate per evitare i tre gol yoshida voto 5 ha giocato come terzino destro all'inizio c'era il dubbio vedendo l'undici titolare se sarebbe stata una difesa 3 oppure una difesa 4 con terzino destro riuscita così è stato come negli ultimi minuti del match contro il crotone fatto fatica il giapponese che comunque ha confezionato l'assist per il gol dell'1 a 1 di guagliarella un passaggio diciamo di finitura con un passaggio di sinistro dopodiché da quella parte agiva boga che ha fatto una partita in cui ha fatto a fette erata tutta la nostra difesa quando partiva palla al piede non abbiamo la colpa soltanto giapponese ma insomma una partita non esattamente da ricordare così come non è da ricordare la partita di Lorenzo Tonnelli che inizia malissimo 5 anche per lui il rinvio sbagliato che accende proprio la giocata di boga è veramente da errore da matita blu come si diceva una volta poi comunque secondo me è bravo a restare mentalmente in partita e a arginare alcuni contropiede alcuni gli regalano palla ai giocatori di Sassuolo che sbagliano le scelte altri è bravo lui a leggere le situazioni sbrogliarle e non era assolutamente facile però in una partita in cui la Sampo prende tre gol in contropiede evidentemente il voto non può che essere negativo è negativo anche quello di Colley ma non così grave 5 e mezzo per il Gambiano che invece di quelli della retroguardia sembra il meno colpevole torna di nuovo sott'acqua a livello di voto quindi sotto la sufficienza anche Tommaso Augello che rivediamo in una classica esibizione del suo campionato 2020-2021 cioè con una buona fase di proposizione offensiva di appoggio a Jakub Jankto o Michael Danskad che si sono alternati davanti a lui sul binario Mancino però dietro soffre deve affrontare Berardi che è un pessimo cliente è contro la Sampo banchetta sempre comunque e soprattutto non riesce a buttare via quel pallone che ballonzola nell'area piccola permettendo proprio a Berardi di fare di segnare quel col che alla fine risulterà molto pesante e determinante. Centrocampo abbiamo detto di Jakub Jankto che parte a destra conclude a sinistra gioca la maggior parte della sua partita sul lato Mancino alla fine a un 6 ho fatto fatica a dare una valutazione della prova del centrocampista Ceco che comunque arriva in un ottimo momento di forma perché l'ho visto soprattutto in fase offensiva e con buoni risultati anche se non entra nelle azioni dei gol però mi ha dato delle belle sensazioni l'ho visto poco però in appoggio alla fase difensiva questo è stato forse un po' il tema della Samp di oggi un pochino troppo sbilanciata nel tentativo nell'idea nell'intento di pressare altissimo il Sassuolo la cosa ha funzionato nel primo tempo fatalmente nella ripresa aumentando la stanchezza e la pressione riusciva in modo meno puntuale il Sassuolo è arrivato più facilmente dalle parti della nostra area. Ekdal 6,5 uno dei migliori della Samp e non il migliore in campo perché il migliore in campo è un giocatore con la maglia numero 10 che è subentrato e che è stato purtroppo anche espulso però è continua la striscia positiva del nostro leader del centrocampo svedese solito un apporto di qualità nella manovra e protezione nella difesa nonostante il palleggio del Sassuolo rischi di far venire il mal di testa ma la Samp regge anche grazie a Ekdal che viene innescato da Keita e va anche vicino al gol comunque bene ancora una volta Albin. Preoccupazione invece per Torsby che lascia presto la contesa speriamo nulla di grave senza voto il norvegese non mi ha convinto purtroppo ancora una volta Adrien Silva che è entrato si è visto molto poco non ha fatto errori particolarmente gravi ma non è riuscito a contribuire al tentativo di ai vari momenti di tentativo di rimonta di questa partita della Samp quindi 5,5 per il portoghese 6 per Damsgaard che oggi non ha brillato in modo particolare è anche vero però che credo che tutti noi imparando a conoscerlo stiamo alzando l'asticella delle attese del giocatore ex Norgelland che comunque ricordiamoci è un classe 2000 che però ci sta dimostrando affidabilità nel primo tempo comunque un po' di palle l'ha lavorato molto bene e mi piace anche come sia sempre più convinto nell'usare il fisico contro avversari più prestanti di lui ma lui sa farsi rispettare anche questo senso quindi mi tengo anche questa prestazione di Michael Damsgaard pur se meno scintillante di altre sue performance in blu cerchiato sufficienza anche per Gaston Ramirez io farei una media tra il 6,5 di un primo tempo in cui l'ho visto ispirato e un 5,5 invece di una ripresa in cui è calato fino a essere sostituito a una ventina di minuti dal termine 5,5 per Fabio Quagliarella che si segna nel secondo tempo però secondo me a differenza di altre partite la maggior parte di quest'anno in cui l'abbiamo visto piuttosto abbandonato a se stesso e con pochi palloni interessanti da lavorare e da provare a concludere verso la porta in questa occasione nel primo tempo li ha avuti e più che altro per bravura dei difensori di Sassuolo che li hanno sporcato le conclusioni o l'hanno anticipato sul più bello non è riuscito a concretizzarle però secondo me non arriva alla sufficienza il nostro capitano vediamo i subentrati nuova performance prestazione esibizione di Medileri da terzino destro nel finale di questa partita e anche questa volta anche se ovviamente è un contesto in cui ha dovuto un po' meno difendere se non su qualche contropiede estemporaneo di Sassuolo più attaccare ha fatto cose semplici ma gli valgono una sufficienza secondo me 6 sufficienza che io non do ad Antonio Candreva anche lui subentrato ero curioso di vederlo appunto in un ritorno in una situazione agonisticamente più provante rispetto allo scampolo contro il Crotone non mi ha convinto è vero che batte e con grande qualità intelligenza il corner che arma il gol di Keita del 2 a 3 dopodiché un paio di scelte sbagliate con preso un tiro completamente fuori luogo quando la Samp stava esercitando la massima pressione per andare a caccia del pareggio tratto anche Valerio Verre in uno scampolo finale 6 per il centrocampista romano che si è messo largo a sinistra per permettere a Keita di assistere Quagliarella in attacco comunque ha provato a inventare qualcosa il buon Valerio quello però che ha impattato di più su questa partita in tutti i sensi nel bene e non tanto per colpa sua nel male Keita Balde 7 che è un voto che comunque ho dovuto abbassare un pochino perché è arrivato un cartellino rosso dopodiché è clamorosa la sensazione di pericolosità che il giocatore ex della Lazio ci dà a ogni palla che tocca porta spasso avversari crea spazi per i compagni rimanda in porta calcia lui stesso segna questo gol che non è facile perché comunque arriva in corsa su un pallone nel traffico che rimbalza ed è difficile da gestire quindi anche il gol sembra una banalità ma non lo è anche il rosso che subisce per un pallo che effettivamente anche a me a velocità naturale forse perché appena ho sentito il fischio ho visto l'intervento di Keita ho visto la corsa dell'arbitro molto convinta mi ha dato subito l'impressione di essere qualcosa di più di un cartellino giallo anche è vero che però questa interpretazione come dicevamo cozza con quella del giallo a Kiriches che arriva in ritardo ma insomma purtroppo la cosa che più ci dispiace è che questo rosso ci priverà di un Keita che sembrava pronto per giocarsi magari un tempo contro la Roma sarà squalificato tornerà alla seconda del 2021 contro l'Inter comunque che giocatore chiudiamo con mister Ranieri 5 e mezzo alla fine la Sampi in realtà mostra una delle migliori esibizioni dal punto di vista offensivo però manca nella gestione dei momenti ed è quello che chiaramente insomma è facile dirlo col senno di poi ma una gestione diversa dopo il pareggio magari qualche cambio un po' prima questa è una delle critiche che si fanno in particolare al mister Romano poteva cambiare l'andamento di questa partita che comunque abbiamo perso con la squadra che ora è quarta in classifica quindi insomma non era assolutamente un avversario facile l'abbiamo fatto soffrire tanto speriamo questo sia il buon auspicio i punti proveremo a prenderci contro le prossime avversarie che saranno appunto la Roma all'Olimpico e poi l'Inter è l'ultima pagella di questo 2020 che insomma è stato l'anno in cui ho iniziato a collaborare con questo canale quindi vi ringrazio per tutti quelli che stanno seguendo i nostri video qui sul canale YouTube vi invito come sempre ad iscrivervi e vi invito anche a fare lo stesso sui nostri canali Instagram e Twitch meme of Sandoria tanti auguri a tutti, tanti auguri a Bucerchiati nella speranza che sia un 2021 migliore sia per noi tiposi Bucerchiati ma anche a tutto tondo perché il 2020 insomma di cose da ricordare in positivo ne avrà pochine auguri ancora, grazie a tutti, ciao